Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Jax che vi parla Oggi siamo qui di nuovo, di nuovo Siamo su Outlast finalmente Outlast nel 2014 Eh già, proprio così Ma dove cazzo siamo? Ok, ok Va bene, va bene, va bene, va bene Chiudi là Ah, vedi Vedi che c'era l'ingegno Allora, ok ragazzi Non so perché quei tipi ci stavano inseguendo Ma va bene così Andiamo a spingere questa Bastardi Follow the blood Vai così, bello Qua forse Dai Eh ma porca puttana Sto scappando Salta Benjamin Finita la corsa parkour Vai 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 che ce la puoi fare Ma cosa Ma cosa What the fuck Ah Ho saltato Ho saltato Ho saltato Eh ma Perfetto Ciao ragazzi No non mi picchiate ragazzi Sono su un tavolo Sono su un tavolo Fatemi passare Grazie Non vedo neanche più dove stanno Fatemi passare Ma no ma c'è pure quello nudo Facciatemi il culo Eh ma vaffanculo Con permesso Apri sta cosa Apri sta cosa Oh Oh Fuck you bitches Yeah Yeah What the fuck Sono mezzo stordito Cos'è il video di Nightmare Nightmare Dove mi sta portando C'è la porta Puoi uscire Puoi andare via Ma che figlio di Ah Yeah Il tuo culo È fantastico Più bel culo Che abbia mai visto Yeah Sì Che mi sta portando Non mi vuoi Kill me Sì 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 Trisley in that town Any use anyway Trisley told I was just tired of looking My own stance Here we are then Thanks so much for coming by I will begin your consultation In a moment It'll just Need a second And wash Oh 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 Movie And letting him confuse you With all this Holier than thou Bible thumping No Okay We fuck No offense to the man But I sometimes worry He might just be A little bit Crazy It's not a standover If you will get scared There is like to turn to God Is anything else You know God died with the gold standard We're on to a more Concrete No You have to rob Paul To pay Peter There is no other way Murder And it is the simplest form But what happens When all the money is gone Perché mi guard Cosa vuoi fare alle mie dita And that's what I'm here for To make you Dove le hai prese le forbici Da facellaio Ah You pay attention Don't pass her on me It's so hard For you to observe Ah Ah You're dead Now, right? Let me see how we cheat here We made the consumer And the means of production This thing Is gonna sell it Ah 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 Sono libero E quando hai mangiato l'ultima volta? Fai schifo Sai che non devi andare in rave party Questo se ne va così Mi taglia le dita e mi lascia così E quando hai mangiato l'ultima? Sì, sì, sì. Non sono riusciti a controllarlo, vai. Di che cazzo stanno parlando? Sono un letto, sono un letto. Non puoi farmi niente. Non so se l'avete capito. Non so se l'avete capito. Non so se l'avete capito. I cannot goddamn stand! It's a quitter! Come on! All right. All right, you can figure this out. Let's solve some problems. I'm in the room. 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 Ha! Yes! No! Yes! Yes! Fucking bullshit! Let's teach you the seven habits of highly evaporated people. I'm in the room. 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 Hey! Nobody likes a quitter! I'm in the room. I'm in the room. I'm in the room. That's who I am! Man, ma che cazzo. No, continuate pure State tranquilli No, non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Sono un letto Sono un letto Sono un letto Sono un letto No No Ma ho fatto tutta Sto fatica per niente Yes Nice La compagnia Buono Certo che Rompi i coglioni Al cento per cento Eh Yalla 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 Andiamo avanti adesso Senza quel rompi i coglioni Sì 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 Che c'è lì? Sto facendo la pupu E' occupato Ok Madonna mia Ma che c... Mio Dio Oh my god it is Oh my god it is Oh my god it is Sì Oh ma che cazza fai Ok Bello ho risparmiato la vita a molte persone E' un po' di più Hey Thank God you survived I feared that secular maniac would carve you up like the others Meet me outside We're close now Va bene ragazzi Qui si conclude Il nostro piccolo episodio Di Outlast Dunque io vi ringrazio Perché questa serie di Outlast andrà a finire bene Spero Quindi ci vediamo con il prossimo episodio State tutti quanti bene Un saluto dal vostro Jax e ciao ragazzi